Ciao, sono Gian Battista Mofioletti e sono in Eiper da un po' di anni, sono tra i soci fondatori, diciamo che in questi tempi mi occupo nel consiglio di amministrazione della cooperativa. Una delle cose che mi piacciono di Eiper è che è attenta a chi ha dentro, ma altrettanto e forse ancora un pochino di più a chi sta fuori. Ciò che auguro alla nostra cooperativa è di legare sempre di più con chi sta fuori.